Con Samuel Stern ci stiamo abituando a una decostruzione dell'eroe, a uno studio su come si possa decostruire l'idea di eroe seriale fumettistico che Giocoforza ci rimanda al Dylan Dog di Sclavi, non per fare una comparazione anche scontata tra due personaggi che vivono e che si muovono nei territori dell'horror, ma perché è sostanzialmente vero, cioè è da tanto che non si assiste a un eroe da edicola, non si pensi che sia come dire un termine dispregiativo tutt'altro insomma, è da tanto che non si assiste così a un eroe seriale da edicola che sbaglia, che prende la strada sbagliata o che rinuncia a prendere quella giusta, scientemente. Sono tutte considerazioni che l'ultimo albo, La Crepa, il numero 30 della serie regolare, mi induce a fare. Vi mostro la copertina assai bella che riprende il frontespizio ma lo nasconde e allo stesso tempo lo rivela con questo puzzle insomma che ricostruisce il volto di Samuel Stern. È veramente una copertina molto bella e la dobbiamo come sempre al trio Tanzillo di Vincenzo Piccioni che ormai mese dopo mese a forza di ripetere mi è entrato insomma con un certo automatismo riesco a ripeterlo. La storia prende le mosse da un femminicidio, cioè un marito che uccide della moglie, un marito poliziotto, e un'amica della moglie avvocatessa si occupa di fare l'accusa all'omicida ma ben presto si scopre che questa donna, questa donna l'avvocatessa, nasconde in sé un demone. In questa storia che è stata scritta da uno dei due creatori del personaggio, cioè Gianmarco Fumasoli, l'altro come sappiamo è Massimiliano Filadoro e la scrive come spesso succede a quattro mani con Marco Savegnago, dicevo ogni parola potrebbe togliere il piacere della lettura. I disegni sono di Luca Colandrea come sempre c'è uno scivolamento quasi in un tratto che si potrebbe definire più adatto magari a una storia umoristica ma poi non è così, insomma in realtà certe spigolature o certi così figure un po' bamboleggianti dei personaggi mi piacciono molto e come se in qualche modo in realtà per contrasto rendessero anche più bella e interessante la storia, dove tra l'altro si ribadisce anche una diciamo aderenza alla fede di padre Duncan non didascalica ecco, non didascalica e si ancora una volta si gioca la carta che ormai forse sta diventando un po' abituale del demone non più inteso come necessariamente un qualcosa di malvagio ecco e sono tutte cose che sicuramente danno più tensione e modernità a un personaggio come Samuel Stern perché altrimenti la diciamo la polarizzazione tra un mondo umano e demoniaco cioè sarebbe fin troppo facile da risolvere o da trattare. Ultima cosa c'è anche un... adesso spero di non essere inopportuno di dirlo però diciamo che verso la fine ecco diciamo alla fine dell'albo c'è anche una bella sorpresa con... che ci riporta a un numero passato di molto tempo fa infatti io che ho così una memoria di merda non ricordo bene neanche a cosa allude però presumo che sia importante per il mondo di Samuel Stern. In chiusura di questa recensione mi scuso ma sto registrando il primo maggio e così mi è caduta la mascella pensando che così il lavoro così negletto in Italia venga ipocriticamente celebrato e quindi per non mostrare lo sfacero del mio volto ho deciso di fare questo video così a metà adesso andrò al pronto soccorso dove mi farò rimettere a posto la mascella. Io vi saluto tanto vi dovevo e vi auguro una buona giornata e un buon primo maggio.